300 anni non arrivano tutti i giorni, quindi è un grande momento, una grande giornata ed è, ci tengo a dirlo, una giornata di festa, una giornata commemorativa di quello che è successo e di quello che sarà. È un momento anche di riflessione, perché per quanto ci riguarda c'è molto da riflettere, viste quelle che sono le potenzialità che si stanno in qualche modo esplicando nel sistema portuale complessivo, quindi festeggiamo, festeggiamo con quelli che sono i partner importanti del porto, come le ferrovie austrieche, con cui oggi faremo due accordi, uno con Ricargo Austria e uno con OBB, insieme a RFI, in modo da andare a pianificare molto bene quella che è la crescita che ci sarà e che c'è già del traffico ferroviario sul porto e sul sistema portuale complessivo, quindi anche di interporti di Fernetti, Frieste, le nuove stazioni che abbiamo ipotizzato su Servole e Aquilinia e naturalmente l'interporto di Cervignano. Abbiamo anche pensato, vista la commemorazione, insieme all'Associazione Italia-Austria, di mettere una targa commemorativa dei 300 anni. Penso che sia un bel episodio, un bel ricordo. È qui nell'entrata della nostra Torre del Lloyd e abbiamo fatto una piccola cerimonia per poter inaugurare questo bel ricordo che probabilmente ai posteri di questa giornata resterà sicuramente questo. Come rimane quel cippo di Franz Josef, primo del settembre del 1882, probabilmente resterà questa targa a ricordare ai posteri che è successo qualcosa nel 300esimo del 1719.